Ciao a tutti ragazzi, sono Gabri Costa e benvenuti a una nuova recensione. In questo livello di Crash Bandicoot 1, come potete notare, noi dobbiamo attraversare questo percorso pieno d'acqua. Dobbiamo cercare di rompere 48 casse per vincere la gemma bianca. Quando saldate su quelle ninfè sprofondano velocemente. Poi ricordatevi di salire sempre su queste foglie che fanno da piattaforma. Poi state attenti anche alle piante carnivore. Quelle verdi aspettano che voi mettete piede, invece quelle blu aprono e chiudono la bocca in continuazione. Quando la racciglia è ferma e non fa più le capriole, colpitela alla vostra giravolta. Cerchiamo di non fare sciocchezza. Poi ricordatevi che possiamo notare anche le cascate. Si può anche colpire il pesce che salta fuori dall'acqua. Bello fare un sacco di avventure con Crash. Si rompe la cassa con la lettera C. Qualcosa mi dice che se si va in quelle foglie di ninfèa, troveremo una sorpresa. Dobbiamo prima attivare questa cassa metallica con il punto esclamativo. Poi torniamo indietro e si rompono le casse. Vedete c'è una cassa di TNT che esploderà quella freccia. Ricordatevi di scappare con quelle casse di TNT perché esplodono dopo 3-6 ore. Si è trovato anche l'icona di Crash. Dovete ricordarvi di raccogliere le icone con il volto di Crash. Oggi si ottiene una vita extra. Ok, andiamo avanti. Proseguiamo. Ricordatevi di raccogliere anche le icone con Tavna Bandicoot per fare il livello bonus. Una volta raccolte tutte e tre le icone di Tavna si fa subito il livello bonus. E in questo livello bonus rompiamo 30 casse. Ecco fatto. Quando vi avvicinate a Tavna, Cortex la rapisce e ve la porta via. Non vuole farvela salvare, è male Ducato, Cortex. Ok, ora andiamo avanti. Vediamo di finire sto livello. Mi sembra che abbiamo raccolto 48 casse e abbiamo vinto una bellissima gemma bianca. Ora mettete un mi piace e iscrivetevi al canale se questo video vi è piaciuto. Stato bello questo livello. Mettete un mi piace e iscrivetevi subito. Io gli iscritti li voglio tutti. Un ciao da Gabriosta e anche da questo bellissimo e simpatico marsupiale arancione. Crash. Crash. Alla prossima.